In merito al presunto rapporto tra le polmoniti di dicembre e gennaio scorsi e la successiva esplosione di contagio da Covid-19, messa in risalto dai media nei giorni scorsi, l'azienda sanitaria locale di Piacenza ha emesso un comunicato nel quale sostiene che le evidenze scientifiche escludono qualsiasi correlazione anomala. Partendo dalla verifica degli esami radiografici e delle cartelle cliniche di tutti i pazienti con diagnosi di polmonite ricoverate negli ospedali del territorio dal 20 dicembre al 20 gennaio scorsi, l'indagine si è concentrata su 215 casi per verificare l'esistenza degli elementi distintivi del Covid-19 e sulla base dei criteri clinici e scientifici ha consentito di accertare che nessuno dei casi potesse essere riconducibile al coronavirus e che quindi le polmoniti fossero riconducibili ad altre cause. Quindi, spiega l'OSL, l'ipotesi che il picco di polmoniti di dicembre e gennaio possa essere anticipatorio o predittivo della successiva esplosione del contagio alla fine di febbraio è da considerarsi categoricamente esclusa dalle evidenze scientifiche. L'azienda sanitaria è intervenuta anche relativamente al presunto trasferimento di un paziente in biocontenimento dalla clinica Piacenza, come raccontato da una infermiera e riportato dai media nazionali, precisando che dai registri della centrale operativa del 118 non risulta nessun intervento di quel tipo nei mesi di gennaio e febbraio per pazienti in uscita né dalla casa di cura Piacenza né dalla casa di cura Sant'Antonino. L'ipotesi dell'azienda è che si potesse trattare di un anziano paziente inizialmente ricoverato a partire dal 17 febbraio all'ospedale di Piacenza e poi trasferito alla casa di cura Sant'Antonino in regime di lungodegenza riabilitativa. Il 24 febbraio il paziente era stato portato in pronto soccorso per problemi urinari, ovvero, spiega il comunicato, con una sintomatologia per nulla riconducibile al Covid. Dagli accertamenti era emerso che aveva avuto un contatto diretto e prolungato con un familiare residente a Codonio che lo aveva visitato più volte nelle giornate di ricovero e quindi era stato sottoposto a tampone nella giornata successiva, il 25 febbraio. Quindi, spiega l'azienda sanitaria, la conclusione dell'indagine epidemiologica è che il motivo di contagio sia riconducibile al contatto diretto con persona residente in zona rossa.